L'Amena Scuola Baschettarezzo torna a vincere dopo due stoppe consecutivi, superando al Palasporta Estra Lottigalli, Terra Nuova 71-64. Non è stata una partita bella, complice anche l'importanza della posta in paglio. Gli Amaranto hanno però avuto il merito di tenere la testa avanti per tutti i 40 minuti. Nel primo quarto le squadre provano a tenere il ritmo alto con veloci ribaltamenti di fronte che hanno permesso alla SBA di chiudere avanti 21-16. Con il passare dei minuti le formazioni hanno notevolmente abbassato le percentuali di realizzazione, tanto che l'Amena nel secondo parziale ha realizzato solo due canestri dal campo ed è stata digiuno per oltre 4 minuti a quota 23. Dopo un intervallo lungo gli Amaranto hanno provato ad allungare Malotti Galli con carattere sempre riuscita a tornare a stretto contatto con gli avversari senza però riuscire a ribaltare l'inerzia del match. Il quintetto Aretino si è presentato così nel finale avanti nel punteggio. La chiave di volta è stata la difesa dove i ragazzi di Delia hanno limitato sia Mascherini che i lunghi Cappagni e Malacario. L'uscita per falli di Dolfi ha poi complicato le cose per Coach Baggiani che nonostante una prolungata tattica del fallo sistematico è riuscita solamente a chiudere sul 71-64 ricucendo il massimo vantaggio dell'Amen che era stato di 12 punti. Per la SBA due punti preziosissimi in un campionato che si conferma equilibratissimo e che comunque dopo 10 giornate vede l'Amen al primo posto con 14 punti. Domenica big match per il quintetto Amaranto sul campo di San Vincenzo ma prima gli Aretini sono attesi da una settimana di intenso lavoro per migliorare quanto messo in campo nel derby con Terra Nuova. Una bella soddisfazione a termine di questa partita veramente entusiasmante non tanto per i punti quanto la soddisfazione di aver battuto una squadra che l'anno scorso ci ha umiliato all'ultimo secondo con quella beffa che ci ha ostruito il passaggio ai play-off quindi una bella rivincita. Continuiamo a avere i piedi per terra ripeto questa è una squadra che adesso è in cima alla classifica ma nessuno ha chiesto di stare in cima alla classifica. Ovviamente fa piacere però ci siamo, ci stiamo, lottiamo, va bene. Io invece voglio fare i complimenti a Terra Nuova perché ho visto anche in questa squadra stasera due o tre ragazzini 2001, 2002, 2000 mi sembra. Quindi queste sono secondo me le cose importanti al di là del derby che insomma fa sempre piacere vincere insomma per una volta diciamo godiamo noi e godiamo anche bene perché onestamente penso che onestamente l'abbiamo meritato anche strameritato. Quindi cosa posso dire? Grazie ai ragazzi, grazie alla lotta che abbiamo messo in campo e ancora dobbiamo come hai detto te facciamo tanti errori ma se se non si sbagliavano i tiri magari sarà in Serie A.